Ciao a tutti! Oggi vi presentiamo una pinzetta autobloccante di precisione. Si tratta di una pinzetta in acciaio che può bloccare qualsiasi oggetto anche di piccolissime dimensioni. Ha una punta molto fine, semplicemente premendo sul manico si apre la punta e si va a prendere qualsiasi oggetto anche piccolissimo. Poi si può lasciare la presa e l'oggetto resta comunque bloccato dalla pinzetta. È una pinzetta molto comoda soprattutto per chi lavora con piccoli oggetti, modellismo, componenti elettronici, bigiotteria. È molto utile perché non è necessario tenere sempre la presa. Ha una lunghezza di 12 cm. Se vi può interessare sul nostro sito troverete tantissimi tipi di pinzette.